Musica Tegli spettatori di Irpini Asagno sta per concludersi la seconda giornata di ricerche di Giuditta Perna, la giovane di Calitri che ormai non dà notizie da 48 ore. Siamo sul ponte che attraversa praticamente il fiume Ofanto, molto probabilmente soltanto nella mattinata di domani inizieranno le ricerche dei sommozzatori, dei vigili del fuoco. Fra qualche minuto saranno sospese le ricerche per la giornata di oggi venerdì e ancora nessuna notizia di Giuditta Perna. Il nostro appuntamento è per domani quando continueremo a seguire in diretta da Monteverde, dallo svincolo di Monteverde, ciò che sta accadendo in questi tragici e tristi giorni in Alta Irpina.